La mia vita è la mia vita io. Porta rispetto giovanerone, sono più vecchio di te e ho molta più esperienza. Ehi, sono proprio io, l'app migliore al mondo. Sentite, mentre passavo di qui non ho proprio potuto fare a meno di ascoltarvi. E beh, ho avuto un'idea geniale, potreste fare una gara di ballo. Ovviamente io sarò il giudice, assieme a cavalletta e all'ombrico. Vi sembra geniale, vero? Mi sembra perfetto, ci sto. Ok, va bene. Cosa tocca fare a un vecchio come me? Partirò io. Farò un classico twist degli anni 50. Beh, non so che tiro. Giampaolo ha ottenuto... 9 punti! Beh, raga, io farò lo Sturdi. Un bello che piaccia a tutti. Non quella roba chiamata twist. Simba con lo Sturdi totalizza... 30 punti! Sìì! Senza dilungare troppo, il vincitore è... Lairone Simba! Non sapevo che avrei vinto, perché a nessuno piace il Twiste. Tutti vogliono lo Sturdi. Sturdi, 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 Sturdi. Non è giusto, quello strudel è orrendo. Simba, ora che hai vinto sei il capo della siepe e otterrai un trofeo pieno di bacche. Evviva, ora posso comandare con la prima scuola di Sturdi per grandi e piccoli promettenti Maranza e l'insegnante sarò io. Grazie a tutti.